L'amata Keira Knightley ha appena compiuto 35 anni, un'attrice che ha saputo destreggiarsi tra diversi generi, tra commedie, drammi ed action movie. Come regalo di compleanno abbiamo deciso di regalare alla bella Keira la sua personale top ten, composta naturalmente dalle sue migliori performance. Prima di iniziare non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuna novità targata MoviePlayer. Ennesima trasposizione cinematografica del celeberrimo romanzo di Tolstoi, Anna Karenina vedeva la Knightley nei panni della romantica e sfortunata Anna, rinchiusa in un matrimonio triste e stregata dalla corte insistente di un nobile. Nonostante la critica in generale a suo tempo sia stata tiepida, tutti furono concordi nel definire l'interpretazione della Knightley di altissimo livello, capace di dare alla sua Anna Karenina un incredibile fascino, ma soprattutto di renderne in modo assolutamente perfetto il dibattersi tra il dovere e la passione, tra paura e desiderio. Ancora un personaggio femminile forte è la sua duchessa del Devonshire, Georgiana Caddenvish, figura tra le più importanti della società e della storia inglese del XVIII secolo. La duchessa è un sontuoso film storico, con un cast di prima grandezza che comprende anche Ralph Hines, Dominic Cooper e Charlotte Rampling. Vibrante, umanissima, determinata. La duchessa ci riporta alla memoria un'epoca in cui le donne non valevano nulla, erano succubi di una società feroce e ipocrita, che però non riuscì ad arginare la sua vitalità, il suo influenzare in modo radicale la politica, i costumi e l'arte. Uno dei suoi ruoli più riusciti e dei suoi film più belli. Il film che ha lanciato l'attrice inglese a livello internazionale sicuramente è una delle commedie più importanti del cinema inglese degli ultimi vent'anni. Sognando Beckham è il simbolo delle difficoltà e dei conflitti nella società europea contemporanea alle prese con un multiculturalismo alquanto problematico per le nuove generazioni. Nonostante non fosse la protagonista, Chiera colpì molto con la sua Jules, calciatrice e ragazza dal carattere complesso. Oltre a contribuire alla popolarità del calcio femminile, sognando Beckham permise alla Knightley di diventare un sex symbol, ed assieme ad un punto di riferimento femminile dimostrando di poter essere una donna bella e di successo anche con un corpo esile in minuto. Di certo non in canone con lo stereotipo moderno. Sicuramente il film più atipico ed originale tra quelli interpretati da Chiera Knightley, dove assieme a Carey Mulligan ed Andrew Garfield, formava un trio di ragazzi cresciuti in un terribile mondo futuristico. Non lasciarmi è un film doloroso, malinconico, pieno di sentimento, dove la Knightley, assieme ad altri due membri del cast, fu bravissima a tratteggiare un personaggio molto diverso da qualsiasi altro avesse interpretato prima. La sua Ruth è una ragazza incredibilmente fragile e a tratti molto egoista, a cui la Knightley, con uno stile molto sopra le righe, instabile, dette una grande vitalità assieme a muncinismo e una disperazione totale. A Dangerous Method del grande David Cronenberg è un film difficile e torbido, che mette in scena il confronto-scontro tra Sigmund Freud, Carl Jung, Otto Gross e Sabina Spielrein, interpretati rispettivamente da Viggo Mortensen, Michael Fassbender, Vincent Cassel e Keira Knightley. Film non completamente riuscito per una sceneggiatura forse troppo instabile, A Dangerous Method è però sorretto da una prova del cast di assoluto valore, uscita vincente dal confronto con quattro personaggi tutt'altro che semplici. Paziente ritenuta da tutti incurabile e affetta da isteria, viene liberata dai suoi incubi e traumi da Jung, di cui diventerà assistente e dopo anche amante, scoprendo nella psicanalisi e in quell'uomo qualcosa di assolutamente spiazzante e turbolento, capace di rivoluzionare la sua vita e la sua mente. La nostra Keira si trova bene a vestire i panni di donne forti ed emancipate, ed anche questa pellicola non fa eccezione. Si donì Gabrielle Colette, in arte solo Colette, fu la penna femminile più rilevante dell'inizio del XX secolo. Artista tutto tondo, capace di destreggiarsi nel teatro, autrice, critica, giornalista, sceneggiatrice, esperta di moda e di cosmetici. Colette è uno dei migliori film storici degli ultimi anni, scevro da ogni trionfalismo quanto piuttosto incentrato su un percorso di crescita personale e di presa di coscienza da parte della protagonista, che troppo a lungo vive ignorando la realtà e il suo talento, e a cui la Knightley ha saputo conferire intensità ed un grande coraggio. Storia terribile, quella di Alan Turing, geniale matematico che durante la Seconda Guerra Mondiale fu la mente dietro quella complessa operazione che premisa all'intelligence britannica di decifrare Enigma, il sofisticatissimo dispositivo di comunicazione usato dai tedeschi per inviare messaggi segreti, e che per ringraziamento fu processato e condannato per la sua omosessualità appena finita la guerra. The Imitation Game ottenne ben otto candidature ai premi Oscar, comprese quelle a Benedict Cumberbatch e alla stessa Knightley, che fu semplicemente superba come John Clark, donandoci il ritratto di una donna dalla fibra eccezionale, coraggiosa, piena di talento ma anche di umanità, tollerante e capace di andare oltre le apparenze. Sicuramente il ruolo che più l'ha resa famosa è consegnata all'immaginario collettivo. Difficile scegliere quale dei film del franchise abbia avuto la migliore interpretazione da parte dell'attrice londinese, ma di sicuro sappiamo che la sua Elizabeth Swan è diventata una delle eroine più carismatiche e importanti del cinema moderno. Quello di Elizabeth è il personaggio che sicuramente è cambiato di più nello svolgersi della saga, passando da nobile a piratessa nel corso di tre pellicole, e lo fece in modo convincente, offrendo una donna ancora una volta emancipata, intelligente e forte. Il che, per una saga commerciale come Pirati dei Caraibi, non è affatto poco, e crea un momento di forte rinnovamento nell'universo femminile del genere adventure. Melodramma tra quelli di maggior successo dell'ultimo ventennio, Espiazione, tratto dal romanzo di Ian McEwan, ricevette ben sette nomination agli Oscar, aggiudicandosi quello per miglior colonna sonora. Qui Kira interpreta una bella e ricca Cecilia Tellis, rampulla di un'influente famiglia inglese, travolta dalla passione per Robbie Turner, figlio di una loro serva. Espiazione è forse la miglior dimostrazione di quanto Kira Knightley sia stata a conti fatti sovente sottovalutata, venendo poi riscoperta da una critica smemorata un numero innumerevole di volte. La sua migliore interpretazione è senza ombra di dubbio, il suo film più importante e che allo stesso tempo le ha permesso di diventare il simbolo di una sferzante critica alla società borghese, ed assieme ode all'amore e al libero arbitrio. Pimpante, mutevole, naturalissima, un'Elisabeth Bennet così deliziosa che anche Jane Austen ne sarebbe stata orgogliosa. Kira Knightley fu celebrata per la sua performance a dir poco incredibile, che le fece guadagnare una nomination agli Oscar dimostrando in modo inequivocabile che era molto più che una diva delle teenager. Persino il Guardian arrivò ad elogiarla, sostenendo che la sua performance era la migliore di sempre in quel ruolo, e noi siamo d'accordo con i colleghi britannici. E voi, lettori di Movie Player? In che ruolo avete amato Kira Knightley? Fatecelo sapere nei commenti.